Il SAV Sport Activity Vehicle ad alte prestazioni BMW XM è la prima BMW M originale dopo la BMW M1 e richiama la leggendaria auto sportiva a motore centrale. BMW MGMBH presenta la sua prima auto ad alte prestazioni con sistema di trazione elettrificato, un sistema ibrido plug-in che comprende un motore a benzina V8 e un motore elettrico straordinariamente potente che conferisce alla BMW XM una cattivante abilità dinamica. La produzione della BMW XM avviene nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg negli Stati Uniti e arriverà nei concessionari di tutto il mondo nella primavera 2023. I mercati di vendita principali saranno gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente. Il sistema di trazione M-Hybrid della BMW XM eroga una potenza complessiva di 653 CV generata dalla combinazione del motore a combustione con una potenza massima di 489 CV e del sistema di trazione elettrica con una potenza massima di 145 kW o 197 CV. È sostenuta da un motore V8 da 4,4 litri, presenta un collettore di scarico a bancate incrociate e un processo di separazione dell'olio ottimizzato. L'ottocilindri è assistito nel suo compito da un motore elettrico integrato nel cambio M-Steptronic a otto rapporti. Il sistema di trazione M-Hybrid produce una copia massima complessiva di 800 Nm, motore con una copia massima di 650 Nm abbinato a un motore elettrico che sviluppa fino a 280 Nm. Il pulsante M-Hybrid sulla console centrale consente di selezionare una delle tre modalità di funzionamento, tra cui l'impostazione Electric, che consente di viaggiare a zero emissioni locali fino a 140 km all'ora e su una distanza massima di 82-88 km nel ciclo VLTP. Questo grazie alla batteria ad alta tensione agli ioni di litio montata nel sottoscocca dell'auto e ai 25,7 kWh di energia utilizzabile che fornisce. L'unità di ricarica combinata della BMW XM consente una ricarica a corrente alternata fino a 7,4 kW. Il design esterno della BMW XM è una dichiarazione di esclusività, presenza e prestazioni. L'abitacolo e i sedili anteriori sono progettati interamente per un'esperienza di guida attiva. La dotazione di serie comprende sedili multifunzione M, protezioni per le ginocchia e un volante in pelle M unico, oltre a grafiche specifiche M, tra cui le luci di svolta per il BMW Curve Display e il BMW Head-Up Display. La BMW XM è dotata di serie di sospensioni adattive M Professional, che includono ammortizzatori a controllo elettronico e stabilizzazione attiva del rollio, con motori elettrici da 48 Volt e Active Roll Control. La BMW XM vanta la più ampia selezione di sistemi di assistenza alla guida offerti, di serie o come optional, per qualsiasi veicolo ad alte prestazioni della BMW MGMBH. Dal Driving Assistant con l'avviso di collisione anteriore, l'avviso di superamento della linea di carreggiata, il ritorno alla corsia con assistenza allo sterzo, l'assistente all'alerta e il sistema di informazione sui limiti di velocità. L'Optional Driving Assistant Professional combina l'Active Cruise Control con funzione Stop & Go con una serie di altre funzioni, tra cui l'assistente allo sterzo e al controllo della corsia, il riconoscimento dei semafori, l'assistenza automatica ai limiti di velocità e la navigazione attiva. Anche il Parking Assistant Plus è incluso nella dotazione di serie. Il pannello di controllo sulla console centrale della BMW XM presenta una serie di pulsanti specifici e per la prima volta questo include il pulsante M-Hybrid che serve a selezionare la modalità operativa desiderata per il sistema di trazione. Il guidatore può scegliere tra le modalità ibrida, elettrica e the control. È presente anche il pulsante Setup che consente di accedere direttamente alle impostazioni di configurazione del sistema di trazione, del telaio, dello sterzo, dell'impianto frenante, di MX Drive e del livello di recupero dell'energia in frenata. Un altro pulsante serve a selezionare la modalità M, quando il conducente passa dall'impostazione predefinita Road a Sport.